se non c'è la fede non scatta la speranza e allora cosa facciamo? ci fermiamo? retrocediamo? oppure guardiamo avanti? ecco che ad un certo punto Gesù ha fatto appello alle sue forze alle forze residue e ha capito che bisognava soltanto fidarsi del padre e affidarsi a lui con una confidenza piena e totale grazie a tutti 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 grazie a tutti